La lingua, la madre è lo strumento più prezioso che noi abbiamo per far funzionare e anche per allargare la nostra capacità di intelligenza, di comprensione di fatti, di costruzione di saperi, di costruzione di tecniche operative. Quindi per esseri umani è importante possederla e possedere più lingue, anche se è possibile, per essere in rapporto con le altre culture. Questo deve fare parte del bagaglio comune di chi in particolare coltiva il sviluppo delle capacità linguistiche, l'uso parlato e scritto nella propria di altre lingue, ha un ruolo importante e quindi nella vita sociale complessiva. Gli ingegneri o i chimici o i medici, tipicamente i medici, non bisogna possedere lo strumento linguistico per capire, anziché, le cose di cui si occupano, per capirle meglio, per trasmettere i loro saperi, anche per renderli operativi, costruiremmo ponti e strade e convegni elettronici, dispositivi elettronici senza possedere la nostra lingua tecnica. Questo significa che in una società ben organizzata dobbiamo sapere sviluppare tanto gli studi tecnici e privativi, quanto gli studi scientifici e più teorici, quanto gli studi humanitatis, come si dice, gli studi umani. E diceva anche durante il seminario che è difficile, è quasi una chimera, favorire l'interdisciplinarità nei contesti accademici, come si può favorire secondo lei, professore? Lavorando molto e insistendo molto perché questa si crea, questa si sviluppa, qualche raro sono più scelta, poco. Chi si occupa di linguistica è una situazione da questo punto di vista privilegiata perché il linguaggio è fatto molto tale, ha tante radici biologiche, tanti meccanismi teorici della logica inglobati che è naturalmente tanta storia, tanta cultura locale, tanta storia particolare dentro, che chi si occupa di una lingua, come Grillo in generale, è costretto, sollicitato dall'interno stessa a cercare di darsi una prospettiva pluridisciplinare e a trovare agganci con discipline anche molto lontane in un universo universitario come lo abbiamo e anche questo linguista deve sapere un bel po' di matematica, un bel po' di biologia, molta storia e non si può accontentare solo di una forma univoca di sapere.